Ciao da Simona e benvenuti su mondiali.it. La sapete la regola del 12? Da Messico 70 una curiosa statistica lega la nazionale di calcio al suo cammino nei mondiali. Andate a scoprirlo nella sezione curiosità sportive di mondiali.it. Per la rubrica Italians ecco la storia di Massimo Barbolini, l'ex coach dell'Italvolle femminile che quest'anno allena in Turchia, paese travolto nell'ultimo anno da un'ondata di sangue e terrore. Andate a leggere la sua storia. Vi aspetto la prossima settimana. Un bacio da Simona.